Interviene in replica il senatore Mazzella a disposizione cinque minuti. Grazie presidente, grazie sottosegretario. Allora oggi dibattiamo della inefficienza di un presidio ospedaliero. Importantissimo. L'ospedale Sant'Anna e Maria Santissima della Neve che serve un bacino di utenza compreso tra 150 e 300 mila abitanti residenti. E ci troviamo a discutere, nella sacralità di questa aula, di questa sanità negata. Perché si tratta di una sanità negata. Signor sottosegretario, lei ha detto che il 2022 il presidio Covid è stato praticamente, è terminato il periodo del presidio Covid e sono iniziate praticamente le pratiche anche burocratiche per cominciare a raccogliere tutte le energie, tutti gli sforzi anche finanziari per poter ripristinare il servizio di pronto soccorso. È passato un anno da quel periodo. Un anno è passato. E adesso io mi sento dire che praticamente appena sarà possibile, appena sarà possibile, ripristineremo entro 3-4 mesi il servizio di pronto soccorso. Ma appena sarà possibile, entro 3-4 mesi, io le confermo che sono passati 3-4 mesi. Perché mentre lei sta qui a Roma e il governo sta qui a Roma, io sto sul territorio e sono andato a vedere che il cantiere doveva essere terminato a febbraio. Sono andato anche a fare visita al cantiere insieme con il direttore generale che mi ha accolto dopo ripetute richieste. La informo anche che la prima e la seconda volta non mi è stato possibile visitare il cantiere. E solo dopo mia insistenza ho potuto visitare il cantiere. Ora, io mi domando, è forse venuto il momento anche di mettere in discussione alcuni punti di tutta l'impianto del sistema sanitario nazionale, visto che un pronto soccorso, un pronto soccorso DEA di primo livello, come l'è affermato essere, in realtà non funziona come DEA di primo livello. perché io e lei sappiamo benissimo cosa è un DEA di primo livello. Non è un ospedale Covid, è un ospedale per l'emergenza urgenza, che quindi deve avere la necessaria attrezzatura, la necessaria presenza di personale sanitario in grado di poter svolgere questi compiti dell'emergenza urgenza. E allora ci dobbiamo porre un problema. questi medici dell'emergenza urgenza ci sono o li sposteremo ancora una volta da un reparto a un altro per reparto come delle pedine. E allora io mi sarei aspettato da questo governo un impegno reale a potenziare l'emergenza urgenza. perché l'ospedale di Bosco Trecase è solo uno dei tanti ospedali che ha questa crisi nel pronto soccorso. E non è solo una crisi di oggi, è una crisi abbastanza lunga. Ora siete al governo da quattro mesi e non c'è stato un solo provvedimento strutturale dedicato ai pronto soccorso. Un unico procedimento strutturale non c'è stato. Niente. Lei scuote la testa, onorevole sottosegretario. Beh, io le posso dire che stando sui territori le posso assicurare che non è cambiato niente. I pronto soccorso sono ancora oggi presenti con delle pieni di barelle con i pazienti che si trovano negli ospedali e non possono essere quindi visitati e neanche nei pronto soccorso. Non è partita la medicina territoriale. Non ci sta niente di tutto quello che è stato descritto da lei come provvedimento. Ovviamente io assumo anche la volontà da parte sua di monitorare come sottosegretario l'andamento di questi lavori e questa è la parte che io auspico possa essere poi presa veramente in considerazione. Io la invito, la invito a venire in questo ospedale che è in costruzione da 15 anni. Venga a vedere, quando lei parla di superfici grezze, è ovvio che le hanno dato un report, venga a vedere che cos'è questo DEA di primo livello perché altrimenti rimaniamo solamente nell'ambito delle descrizioni che le vengono date. Colga l'occasione per poter venire sul territorio a Bosco Trecase, facciamo un'ispezione vera, reale, non qui in questa aula. Venga veramente e porti le sue parole, le parole dello Stato a questo territorio, nell'ASL Napoli 3 Sud che è un ASL una delle più popolose d'Italia, un milione di cittadini residenti e 300.000 abitanti, lo ripeto perché se no non sarebbe possibile realizzare un DEA se non ci fosse la stima degli abitanti che afferiscono a questo distretto, 300.000 abitanti che da oltre un anno non vedono la possibilità di avere il ripristino del pronto soccorso. Ecco, io offro tutta la mia collaborazione ovviamente al Governo per poter cercare di risolvere non nel più breve tempo possibile, non appena sarà possibile, ma domani questo problema perché è un problema, lo ripeto, che non è solo esclusivamente di Bosco Trecase ma è un problema nazionale. Grazie, signor Sottosegretario. Grazie, Senatore. Sottosegretario di Stato per la Salute, Donerebbe Gemmato, risponde all'interrogazione numero 55 del Senatore Mazzella.